Sono le ore 20 e 09 minuti, se riconnessi si va bene con Radio Ultramusica numero 451 dal Radio Circuito Solare, l'emittente del comune di Sessalunca in provincia di Caserta in compagnia di Andy Simonillo della migliore musica alternativa del XX secolo il programma del martedì sera e dalle 19.35 circa fino alle ore 21.10 in diretta radiofonica diretta anche su internet tramite il sito di Radio Circuito Solare vi ricordi che potete trovare le registrazioni del programma su Facebook e su Youtube è arrivato lo spazio aperto di questa sera che stasera ospita il gruppo veneziano Quanna Parker dopo il loro primo album Quanna del 2012 presentato da Radio Ultramusica nel settembre del 2013 ecco che è arrivato il nuovo lavoro intitolato Suite degli Animali Fantastici è uscito da poco nel febbraio di quest'anno è un omaggio al vero rock progressivo italiano, denso di melodie, di momenti magici come magici sono gli animali fantastici di questa suite ed è proprio la suite omonima dell'album che sarà trasmessa per intero durante lo spazio che vede appunto ospiti il Quanna Parker Suite degli Animali Fantastici è composta in otto diverse parti tutte collegate fra di loro e aventi questi titoli risveglio onirico, danza di un mattino, interludio notturno, décevue fantastico luci dagli abissi, cantico marino, animale multiforme, ritorno alla mente brani che identificano queste creature fantastiche come proiezioni oniriche di una mente umana e le vedono compiere un affascinante viaggio al di là dello spazio e del tempo per tornare infine al loro creatore i testi in italiano sono stati scritti da Alessandro Monti già cantante e collaboratore della prima formazione dei Quanna Parker e le musiche sono state composte da Riccardo Civales con alcuni contributi musicali dello stesso Alessandro Monti la formazione è Riccardo Civales, tesserista e compositore Elisabetta Montini, la cantante Giovanni Pirotta, chitarista e anche al basso Paolo Ongelo, batterie e percussioni con la partecipazione di Alessandro Monti, basso, flauto e percussioni e in altri futuri appuntamenti di Radio Altra Musica saranno messi in scaletta ulteriori brani facendo parte di questo nuovo album dei Quanna Parker ho letto tutte le informazioni ora per non interrompere l'ascolto della suite dei Animali Fantastici ma prima di iniziare voglio mandare il mio ringraziamento a Riccardo Civales e a Vannuccio Zanella, promoter della MP Records per essersi interessati nel mandarmi questo nuovo album dei Quanna Parker buon ascolto a tutti con i Quanna Parker e la suite degli Animali Fantastici Buon ascolto a tutti